Diamo la possibilità... Recitazione, dizione, storia del teatro e tante altre materie. Al Teatro Maruccino di Chieti riparte un format oramai collaudato da diversi anni. Dal 6 novembre infatti prendono il via le attività della scuola di recitazione con un programma didattico Tutto da Scoprire. Questi i corsi principali, come spiega la coordinatrice della scuola Giuliana Antenucci. I corsi sono per i bambini, favolando, per i ragazzi, innamoramento al teatro e per gli adulti teatro che passione. E inoltre per le persone che vogliono approfondire la conoscenza del teatro ma soprattutto il parlare bene, quindi la dizione, la lettura d'altra voce, c'è il corso di lettura espressiva. Il programma inoltre prevede anche un progetto speciale dedicato all'Armenia. Vogliamo approfondire la cultura di questa antica nazione e come consuetudine della scuola di recitazione appunto è un approfondimento sulla letteratura, sulle favole, sugli autori di questa nazione. Per chi vuole aderire, per chi vuole iscriversi, cosa deve fare? O venire qui in teatro alla segreteria oppure scaricare il modulo e fare l'iscrizione. Noi siamo aperti qui e aspettiamo tutti coloro che vogliono innamorarsi del teatro. Un altro aspetto importante della scuola di recitazione viene messo in evidenza dal maestro Giuliano Mazzoccante. Per noi è estremamente importante questo percorso di formazione perché, come molti stanno scoprendo sempre di più, nelle opere spesso, nelle opere che allestiamo, c'è bisogno di comparse, di attori, di mimi, persone capaci di stare sul palcoscenico. E naturalmente la corsia preferenziale più diretta è quella della scuola di recitazione dalla quale sempre più cercheremo di attingere per trovare nuovi talenti da poter mettere anche per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Maruccino.